Intanto con quali prospettive arrivi a Verona? Perché hai scelto proprio Verona per il tuo percorso di crescita? Buongiorno a tutti prima, sì scelgo Verona perché è prima occasione dopo tre anni in Serie B per giocare in Serie A sono arrivato in una squadra molto importante, storica, per me questo è più importante. Se arrivi anche al momento giusto dopo l'Unione Europea Under 21, comunque anche esperienze internazionali in Serie B hai comunque fatto tante presenze, forse è questo proprio il momento giusto per te per la Serie A? Sì, dopo tre anni giocare in Serie B è arrivato il momento per tornare in Serie A con esperienza, ho fatto europei, non l'abbiamo fatti bene però ho giocato le partite, è tornato dopo un infortunio grave, dopo un rotto crociato il ligamento, quindi adesso sento bene, sento pronto a dare massimo. Una piazza quella di Verona che tu hai avuto modo di conoscere, di toccare con mano l'anno scorso con la maglia della Cremonese, ti chiedo che effetto ti fa adesso difendere la porta della Sverona che ha uno dei pubblici più importanti sul palco scenico italiano? Sì, questo è una cosa per quello che sono venuto qua, perché ho visto il tifosi, ho visto com'è l'atmosfera al stadio Bentegodi, quindi secondo me anche quest'anno in Serie A è una delle piazze più calde, quindi per quello sono veramente contento perché poche squadre hanno tifosi così. Grazie 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 Grazie